Due processi che prendono le mosse da punti di partenza diversi ma che secondo i PM finiscono inevitabilmente per incrociarsi. Il primo è quello che vede accusati gli ex ufficiali del ROS, Mario Mori e Mauro Binu di favoreggiamento alla mafia. L'altro è il processo che inizierà lunedì nei confronti di esponenti della criminalità e delle istituzioni che avrebbero avviato una trattativa. Durante la requisitoria del processo Mori il PM di Matteo ha ricostruito alcuni aspetti dell'inchiesta proprio sulla trattativa Stato-Mafia. Un'inchiesta sulla quale, dice il magistrato, abbiamo incontrato tante resistenze politico-istituzionali, resistenze che continuano ancora. Il PM ha ripercorso così le dichiarazioni dell'ex ministro della giustizia Claudio Martelli su quanto riferì l'ex direttore degli affari penali di Via Renula, Liliana Ferraro, ovvero che i carabinieri avrebbero richiesto un sostegno politico alla loro attività di contatto con Vito Ciancimino. Attività, secondo il PM, finalizzata a fermare le stragi e che avrebbe segnato l'avvio della trattativa. Proprio sulla base di quel patto, Mori o Binu nel 95 non avrebbero catturato il boss Bernardo Provenzano, nonostante le indicazioni arrivate da un confidente. L'accusa, anche ricordato le parole di Agnese Borsellino, la vedova del giudice, è morta tre settimane fa. Mio marito, dopo la strage di Capaci, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1992, mi parlò dell'esistenza di una trattativa tra Stato e mafia. Di Matteo definisce queste parole come uno dei più importanti elementi di prova sul dato della progressiva e più specifica conoscenza, anche parziale, che il giudice Paolo Borsellino aveva della trattativa. Ma nel corso della requisitoria l'accusa ha descritto anche il ruolo di Massimo Ciancimino. Sono le sue dichiarazioni, ha ricordato Di Matteo, che ci hanno permesso di riaprire l'indagine sulla trattativa Stato-mafia. Il magistrato ha ricordato che Ciancimino è un personaggio comunque controverso e per questo c'è la necessità di accostarsi in ottica valutativa, laica e serena alle sue dichiarazioni. È sbagliata, ha infine aggiunto Di Matteo, l'identificazione e la sovrapposizione della ricostruzione della trattativa con la versione data da Massimo Ciancimino.